I dati non hanno lasciato scampo. I numeri dei nuovi positivi non consentono di allentare la presa e mettere la provincia di Pistoia in zona arancione. Sino alla mezzanotte di venerdì resterà rossa. È l'esito della riunione che ha visto confrontarsi il presidente della regione Eugenio Gianni con i sindaci della provincia. I dati sui contagi sono superiori alla media dei 259 per 100 mila abitanti del resto del territorio, arrivando a quota 338. Nel corso del faccio a faccio a distanza, durante il quale non sono mancati momenti di tensione con alcuni dei primi cittadini che hanno provato a portare avanti l'idea del cambio di colore, alla fine si è deciso di conservare l'attuale situazione, a pesare sul quadro generale anche la condizione degli ospedali, in particolare il San Jacopo, dove la pressione dell'emergenza sanitaria è divenuta importante, con il superamento della soglia dei 100 ricoverati per Covid tra isolamento e terapia intensiva. La decisione è stata quindi quella di prorogare l'attuale ordinanza per la provincia, che dal 6 di marzo si sovrappone con il nuovo DPCM. Per le zone rosse dunque, da sabato è sospesa l'attività in presenza nelle scuole, di ogni ordine e grado, con l'eccezione degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. Stop a parrucchieri, barbieri e centri estetici, oltre a tutte le attività per le quali era già prevista la chiusura. Gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, necessità, salute o per prestare assistenza a persone. Martedì prossimo è previsto un nuovo incontro per verificare l'andamento della situazione e, in vista della scadenza, comprendere se si stia andando verso un alleggerimento delle misure o di una loro conferma.